Ciao, sono Valentina e nella vita sono un'imprenditrice, ho la bellezza di lavorare insieme a mio marito in un'azienda ristorativa e poi ho il sogno di espandere la parte olistica al servizio che stiamo facendo al momento. Sono venuta a conoscere di questo evento, Vita straordinaria, live online, grazie a un'intervista che Patrizia ha rilasciato a una web radio che si chiama New Life Radio, mi sembra, che si occupa solamente di contenuti di crescita personale, è una cosa bellissima. Una mia carissima amica la stava intervistando e sono rimasta incollata allo schermo per tutta l'ora dell'intervista e dopo quella roba lì la voglio assolutamente provare e non sono rimasta delusa, tra l'altro. Ho deciso di partecipare a questo evento perché sentivo di voler approfondire che cos'era questa Divine Connection, cioè parlava di espansione ma volevo capirlo, volevo a tutti i costi sperimentare questa cosa qua. Mi è piaciuto tutto, non c'è qualcosa che non mi è piaciuto, anche se insomma negli ultimi nove anni ho sperimentato diverse cose, diversi corsi, diverse tecniche, però per me è stato tutto nuovo. Ho adorato i contributi degli ospiti, mi è piaciuta moltissimo l'energia di Patrizia, poi vabbè insomma voi siete stati veramente forti nell'organizzazione perché non è scontato mantenere un livello di energia, di coinvolgimento così alto tutto online. e poi chiaramente quello che mi è piaciuto è come mi sono sentita, come mi sono sentita durante, come mi sono sentita dopo e come continuo a sentirmi a distanza ormai già di cinque giorni. La cosa che mi ha colpito di più è stata la meditazione che abbiamo fatto sul perdono. Avevo fin pensato di acquistare le registrazioni per avere la possibilità di riascoltare la meditazione del perdono. in qualsiasi momento, perché per me ha fatto un miracolo gigante. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è stato che per la prima volta io ho potuto ascoltare i desideri della mia anima. Per la prima volta in tutta la mia vita. Mi sono commossa tantissimo e mi sono resa conto di non essermi mai permessa di ascoltare quello che la mia anima profondamente desiderasse. Consiglierei l'esperienza che ho fatto e la consiglierei a tutti indistintamente e la consiglierei perché tre giorni alla fine cosa sono? Sono tanti ma sono anche niente rispetto alla vita. Eppure per quello che mi riguarda ha veramente cambiato il mio modo di sentire, di percepire. Ripeto, nonostante tanti lavori fatti, ma qualcosa è veramente profondamente cambiato dentro di me. Se dovessi descrivere questa esperienza con una sola parola sarebbe ESPANSIONE! Quando è finito l'evento la prima cosa che ho pensato di fare è stata di continuare a stare nel flusso di questi tre giorni perché non volevo uscirne. E quindi sono andata a riguardarmi tutte le cose che abbiamo visto insieme. E poi sì, sicuramente, chiaramente l'ho condiviso, l'ho condiviso con il mio uomo, con la persona che mi è vicina, perché chiaramente questo percorso possiamo viverlo insieme. Patrizia, grazie di cuore, sei veramente una persona speciale, super speciale e io non vedo l'ora di poter avere la prossima occasione per lavorare insieme perché sei speciale, sei bella, bella dentro e anche fuori.